si cammina grazie al bosco bello incontriamo l'uomo nero anche il ghiaccio manca niente dove anche andy guardate andy qua andy ha paura che casca il mese casco ci rimango poi c'è il fumo c'è il fumo del mio fiato che parlo guardate che meraviglia in mezzo al bosco con tutte le illuminazioni che riprendono il bosco natale con tutte le candele candele non solo candele perché vanno a benzina petrolio c'è una marina di niente che va a vedere queste bellissime cascate non è neanche freddo perché sarà sui 2 gradi quindi non è neanche freddo anche sta bene male dice ora non fa freddo anche ora non fa freddo 2 gradi rispetto a quando siamo arrivati chi era meno 7 meno 7 meno 8 anche pure anche meno 9 ma nemmeno a mangiare ma che siamo ecco la nostra camminata romantica con tutte le provate del mondo ecco la nostra camminata